L'appello del Vescovo Monsignor Leonardo d'Ascenso non è caduto nel vuoto. La richiesta di maggiori controlli nella zona antistante la chiesa di Sant'Agostino in piazza Principe Umberto, a seguito dell'aggressione del parroco da parte di un uomo in stato confusionale, ha trovato sponda nel sindaco di Barletta Cosimo Canninto, che questa mattina ha chiesto al prefetto Dario Sensi la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, proprio per discutere della recrudescenza di episodi criminali nella zona del vecchio ospedale cittadino. Questo è solo l'ultimo accadimento in ordine di tempo, ha detto il sindaco, ma in quel luogo le risse, le molestie ai residenti e le azioni criminali sono all'ordine del giorno ed è dovere delle istituzioni porra in essere ogni provvedimento utile a garantire la sicurezza dei cittadini, che convivono quotidianamente con una situazione di degrado e di legalità. Un anno fa si consumò proprio in piazza Principe Umberto l'omicidio di un 41enne rumeno ad opera di un connazionale.